Dopo numerose variazioni al progetto, in seguito ad un notevole incremento dei costi, dopo anni di attesa, ad oggi non sappiamo ancora come andrà a finire questa vicenda. A far discutere sono ancora i lavori di Via Fiorentina e adesso interviene Confesercenti. La nostra associazione da anni chiede una soluzione al problema, spiega il presidente Mario Landini. Confesercenti non vuole entrare nel merito di scelte urbanistiche che non le competono, ma certamente esprime la preoccupazione dei commercianti che ancora non hanno capito se e quando questi lavori verranno realizzati. Ci è sempre stato garantito che i lavori non avrebbero impattato in maniera sostanziale sulla viabilità, che non sarebbe stato interrotto il traffico delle auto. Purtroppo però ad ottobre e novembre scorsi non è andata così, ricorda poi il direttore Valerio Alvisi. Quindi oggi la preoccupazione per gli imprenditori è forte. Chiediamo all'amministrazione certezze, certezze sui tempi e sulle ricadute pratiche del cantiere. Nel frattempo le opposizioni in Consiglio Comunale, PD Arezzo 2020 e Movimento 5 Stelle hanno organizzato per venerdì 28 giugno un presidio di protesta proprio sul posto. Aumento della spesa da un milione e mezzo a dieci milioni, spiegano, questo progetto si sta rivelando insostenibile per tempi indefiniti, costi esorbitanti e disagi inaccettabili per tutti.